A fare le presidizioni... Valorizzare e diffondere la cultura della resilienza in campo, vissuto dagli atleti diversamente abili che praticano differenti discipline sportive. È l'obiettivo di Sportin, uniti dallo sport, iniziativa divulgativa promossa da Panathlon Club Trieste e Lions Club Trieste in collaborazione con la Fondazione Monticolo Infoti. La manifestazione si è tenuta al pala calvola. In questa prima edizione si sono esibiti atleti della boccia paralimpica, del pararowing, ballerini paralimpici, giocatori di baskin e atleti che praticano il tennis tavolo. Mi fa molto piacere aver organizzato assieme al Lions questa manifestazione che tra l'altro mi fa piacere che ci sia abbastanza pubblico, però spero che nel prossimo futuro tanti ragazzi delle scuole, tanti giovani verranno a vedere questo tipo di attività perché hanno solo ed esclusivamente da imparare da questi atleti veramente, torno a dire, eccezionali. Tra l'altro è una manifestazione che abbiamo fatto come prima edizione e diventerà una manifestazione a livello regionale e mi auguro anche, grazie ai buoni rapporti che abbiamo Panathlon e Lions anche con Slovenia e Croazia, includeremo sicuramente delle realtà dell'Alpe Adria e quindi faremo una manifestazione ancora più importante. Nel promuovere questa iniziativa che si occupa appunto di sport è svolto da persone diversamente abili e abbiamo trovato veramente tanta collaborazione e tanta gente veramente col cuore giusto. Una delle cose che noi in ambito Lions diciamo, io personalmente è la terza volta che faccio presidente, sono tanti anni che mi impegno, però sto spiegando e dicendo ai nostri soci più giovani guardate che fare qualcosa per gli altri in realtà sì, si lavora, si fatica, magari non si dorme la notte, però i primi gratificati siamo noi, i primi che si avvantaggiamo siamo noi, quelli che danno e dare è molto bello.